Salve e salve da Marco Calabro per conto di CoCredit. Stiamo vedendo oggi un'offerta di CoCredit Metaprezzo. L'offerta di oggi riguarda due occhiali da sole, un occhiale da sole, Missoni, un occhiale da sole della Milano Living. Cominciamo dall'occhiale da sole della Milano Living. Vediamo che ha un effetto a specchio, ha questo ponte così come di tendenza, ha anche una buona protezione dai raggi ultravioletti solari che possono entrare di lato. Vediamo che le cerniere sono un poco più avanzate rispetto alla struttura degli occhiali ed chiaramente tutta quanta la struttura è metallica. Andiamo a vedere questi occhiali. Vediamo la protezione degli occhiali che è da 400, quindi hanno una protezione dai raggi ultravioletti solari esatta. Questo tipo di occhiali hanno un costo di, lo vediamo qui, eccolo qua, di 139 euro. Andiamo al secondo paio di occhiali, questi qua della Missoni. Vediamo che hanno qua invece una struttura metallica attorno alle lenti che li rende particolari. I due occhiali da sole sono stati scelti perché questo è un occhiale da sole più scuro, quindi più indicato per le ore centrali della giornata. Mentre questo, che è un occhiale più coprente, questo è indicato nella mattinata oppure nel secondo pomeriggio. Andiamo a vedere anche la protezione ai raggi ultravioletti di questi occhiali di Missoni e vediamo che la protezione è 400. Quindi tutti e due gli occhiali hanno la protezione dei raggi ultravioletti che bisogna avere. Quindi dicevamo 139 più 150, quindi 289 euro. Ma vengono offerti tutti e due da co-credit e metà prezzo per un costo di 149 euro. Un'altra considerazione da fare che ritengo anche importante è il fatto che co-credit e metà prezzo si paga in due annualità. Nel senso che noi paghiamo subito 74,50 euro alla metà più le spese di invio. Mentre andiamo a pagare l'altra 74,50 euro esattamente dopo un anno. A meno che noi non vogliamo rendere gli occhiali, se gli occhiali sono in normale stato d'uso, li possiamo rendere per permutarli con degli altri occhiali da sole. Abbiamo visto la proposta numero 4 di co-credit metà prezzo, che prevede un paio di occhiali della Missoni e un paio di occhiali della Milano Living. Grazie, grazie sempre e arrivederci al prossimo video.